Monofilo che stiamo utilizzando nella pescata di oggi, XPS Surf FP, che sta per Floro Power, un monofilo estremamente adatto alla pesca in diurna come nel caso odierno. Un rivestimento in fluorocarbon che innanzitutto rende questo filo estremamente resistente all'abrasione, dopodiché assenza di memoria, per cui una particolare caratteristica che noi ricerchiamo in un monofilo da surf casting, ma soprattutto un rivestimento che lo protegge dai raggi ultravioletti, per cui questo monofilo può rimanere esposto diverse ore sotto i raggi battenti del sole, anche nei periodi più caldi come stiamo pescando oggi, senza alcun problema. Per cui un monofilo estremamente adatto alla pesca in diurna e nel caso specifico come stiamo utilizzando oggi sulle orate, veramente veramente eccezionale. 0,22 e 0,25 le misure più adatte secondo me per pescare l'orata, in questo caso tra le mani lo 0,20 perché ho voluto provare ad uscire un po' qualche metro in più, per cui anche lo 0,20 sulla canna da lunga distanza.